Finalmente ci siamo, è stato un parto difficile, travagliato, abbiamo dovuto attendere che da Roma arrivasse il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come sapete nei giorni scorsi abbiamo faticato per avere uno spazio di autonomia i governatori delle regioni, e soprattutto per superare i limiti che erano stati imposti dall'Inail da Roma a proposito delle distanze di sicurezza. Abbiamo cercato di coniugare l'esigenza improntata a prudenza con la necessità di consentire un'attività remunerativa, naturalmente tutto questo è affidato al senso di responsabilità di ciascuno di noi, siamo stati finora responsabili, bravi, abbiamo gestito otto settimane di gravissima crisi, siete stati soprattutto voi bravi, perché noi abbiamo posto dei limiti, ma se voi non li aveste osservati avremmo vanificato tutto. Adesso guardiamo avanti, l'ordinanza è stata firmata, ci abbiamo lavorato tutta la notte e credo che sarà pubblicata fra qualche minuto, però intanto mi faceva piacere anticiparvi alcuni elementi. Prima cosa, domani può riaprire tutto il commercio al dettaglio, possono riaprire tutte le botteghe artigiane, i bar, i ristoranti, i pub, le pizzerie possono tornare a lavorare, ospitare clienti con i limiti che le misure di sicurezza impongono, però non c'è più il fatto di dover mantenere un tavolo distante due metri l'uno dall'altro, qualcuno aveva detto anche tre, ma serve almeno un metro di distanza fra una sedia e l'altra sedia, fra una persona e l'altra persona. Un po' meno può essere la distanza se le due persone si danno le spalle. Da domani aprono finalmente anche i parrucchieri, gli estetisti, i barbieri, possiamo finalmente consentire a questo comparto della categoria degli artigiani che io avrei fatto lavorare già dal 4 di maggio di poter rialzare la Sagenesca e aprire il salone. C'è una novità che ritengo utile, la novità è quella che ogni attività può prolungare l'orario di apertura anche fino alle 23.30 e questo per compensare il fatto che in un giorno non possono contemporaneamente entrare 4, 5, 6 clienti che potrebbero, se i locali non lo consentissero, se non fossero ampi, potrebbero determinare l'assembramento che invece va comunque e sempre evitato. Quindi si può restare aperti fino alle 23.30. La domenica teniamo chiusi i centri commerciali, chiusi ancora i supermercati, stiamo ricevendo tanto apprezzamento da parte dei cittadini, non soltanto da parte delle organizzazioni sindacali, ma anche dei lavoratori di questi esercizi che hanno riscoperto finalmente il piacere e la gioia di stare in famiglia la domenica. Su questo tema naturalmente ci confronteremo nei prossimi giorni tanto con le organizzazioni di categoria quanto con le organizzazioni sociali, ma io ritengo che abbiamo fatto bene a tenere chiusa la domenica e continueremo a fare bene. Dall'8 giugno possono cominciare a lavorare i catering, quindi si può cominciare a pensare alle cerimonie, ai banchetti, ad un'attività che in Sicilia comporta una ricaduta economica particolarmente significativa, il che non significa che fino all'8 giugno le imprese che fanno catering non possono aprire gli uffici e non possono cominciare a organizzarsi, anzi è espressamente detto che consentiamo a questo tipo di imprese di poter prendere i contatti con i clienti, di poter effettuare i sopralluoghi, insomma un paio di settimane di tempo perché l'8 giugno si possa cominciare alla grande. Per gli stabilimenti balneari abbiamo autorizzato già da diverse settimane l'opera di manutenzione, li incontreremo nei prossimi giorni i rappresentanti del sindacato dei Lidi per concordare assieme a loro se preferiscono l'apertura ai primi di giugno o invece alla metà del mese di giugno e naturalmente anche questa attività sarà disciplinata da regole precise che debbono evitare l'assembramento e non debbono sacrificare le norme di sicurezza. I musei, gli archivi storici, le biblioteche apriranno dal 25 maggio in poi perché vogliamo consentire per la prossima settimana la possibilità di sanificare i locali e quindi di mettere i direttori nelle condizioni di predisporre il turno, il personale di vigilanza, il gel disinfettante all'ingresso, tutto quello che serve perché in questi locali chiusi lo studioso, chi vuole consultare, lo studente, il professionista, il frequentatore possa andarci e lavorarci in assoluta garanzia per se stesso e per gli altri. Anche per gli spettacoli, per i cinema all'aperto, le famose arene, per i teatri abbiamo pensato alla data dell'8 giugno in modo che si possa avere il tempo per i titolari, per i gestori di potersi organizzare al meglio. Anche nei cinema, nei teatri naturalmente bisogna mantenere i necessari accorgimenti, voi mi chiederete e le discoteche? Le discoteche diventano un problema perché fanno assembramento, quindi stiamo disciplinando anche questa materia, meglio se fossero discoteche all'aperto, ma in ogni caso questa è un'attività che sarà regolamentata dall'8 giugno in poi, bisogna avere un poco di pazienza perché dobbiamo andare avanti sapendo che tutti conviviamo in questo momento con il virus, non è che la battaglia è vinta, abbiamo passato mesi terribili e però il virus è ancora con noi, continua a circolare assieme a noi, quindi non possiamo assolutamente convincerci che adesso tutto sia finito, noi possiamo tornare in autunno a dover fare i conti con questa drammatica epidemia, lo sappiamo perché l'abbiamo vissuta nell'isola maggiore, lo sanno anche gli abitanti delle isole minori, col cuore incerto fra il sorriso e il pianto perché da un lato vorrebbero che le isole tornassero affollate di turisti, dall'altro si rendono conto che soprattutto nelle isole minori un certo numero di stranieri, di turisti, di forestieri, di persone non abituali abitanti dei luoghi può determinare dei problemi. Cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo innanzitutto dimenticare di muoverci sempre e comunque con questo aggeggio, vedete io lo porto ovunque vada all'esterno, uno, due, tre e quattro. Certo non è bello camminare con questa mascherina ma dobbiamo abituarci perché noi l'abbiamo prevista per tutti i luoghi esterni, per tutti i luoghi in cui puoi incontrare un amico, un parente, un conoscente, una persona che non conosci ma che si ferma e si avvicina a te oltre il metro previsto dalle norme. Questo non è che ci salva dal contagio ma naturalmente diventa una misura precauzionale, ci protegge in un certo modo. Quando si va nei locali preposti alla vendita di generi alimentari, penso all'ortofrutta per esempio, accertatevi che l'operatore abbia i guanti, non comprate merce se l'operatore non ha i guanti e non ha la mascherina e per non correre rischi anche voi vi avvicinerete con la mascherina e con i guanti perché ci sono anche i contagiati asintomatici come sapete e gli scienziati non fanno altro che raccomandare. C'è chi ha una temperatura al di sotto dei 37 e mezzo, c'è chi non ha tosse ma necessariamente bisogna stare attenti perché abbiamo scoperto che tanti cittadini asintomatici poi alla fine risultano essere positivi al tampone. Cosa sto dimenticando? La mobilità, all'interno dell'isola si può finalmente uscire da un comune all'altro, da una provincia all'altra, da un'isola all'altra perché siamo comunque all'interno della regione siciliana, senza più l'autocertificazione, senza le misure che abbiamo finora rispettato. In Sicilia non si può, come si svilupperà il traffico e la mobilità in entrata, noi terremo fisso l'occhio al dato epidemiologico, questo è importante, qualunque misura oggi, se dovesse scoppiare un caso, un focolaio di contagio è chiaro che noi saremo costretti, prima ancora che lo faccia a Roma, saremo costretti a chiudere e a ritirare queste misure. Quindi è facile capire come la mia difficoltà, come quella di ogni altro collega Presidente di Regione, sia quella di trovare il punto di equilibrio fra la voglia di riaprire e la voglia di restare prudenti e cauti perché il virus è ancora con noi. Io amo ripetere che in questi due mesi mi sono trovato al centro di due grossi partiti, il partito del Presidente apra tutto e il partito del Presidente tenga tutto chiuso. Naturalmente io non mi sono iscritto né all'uno né all'altro partito, mi sono sforzato di trovare il giusto punto di equilibrio e come vedete, come leggete dai giornali e come sentite nelle televisioni, siamo una delle regioni più sicure d'Italia perché abbiamo fatto un bellissimo gioco di squadra. Ecco, io vi ho detto quello che vi dovevo dire, ci tenevo tantissimo a dirvelo, avremmo voluto, l'ordinanza era pronta già da ieri, ma non potevamo assolutamente firmarla e pubblicarla se prima non avessimo avuto la certezza di non essere smentiti, diciamo così, dal Governo nazionale perché se avessimo poi creato una sorta di contrasto, sarebbe accaduto quello che nessuno prevedeva e nessuno avrebbe voluto prevedere e tantomeno noi che finora ci siamo comportati in maniera assolutamente rigorosa e rispettosa delle norme nazionali. Bene, vi auguro una buona ripresa, lo auguro soprattutto alle imprese in ginocchio, a quelle che vivono nella disperazione, che stanno ricominciando da capo, non da zero, ma da meno tre. Noi stiamo adoperandoci perché alla Regione le misure adottate nella legge di stabilità voluta dal Governo e elaborata dal Parlamento possano presto diventare atti concreti, speriamo di superare i lacci e i lacciuoli della burocrazia, speriamo che le misure promesse da Roma possano finalmente arrivare anche in Sicilia e un passo graduale di apertura, lento ma inesorabile. Godiamoci questa estate nella responsabilità, sappiamo che a ottobre potrebbe tornare virulento il virus, ma noi sappiamo già come contrastarlo, non riusciremo a vincerlo, ma riusciremo a neutralizzarlo perché ormai lo conosciamo, non del tutto, ma certamente ne sappiamo più di quanto ne sapevamo quando il 27 febbraio abbiamo detto o detto ai cittadini del Nord Italia evitate di scendere in Sicilia perché in questo momento per la vostra e per la nostra sicurezza è bene che ognuno rimanga a casa propria. Tanti auguri a tutti, miei cari concittadini e conterrani di Sicilia e sono convinto che in fondo al tunnel il barlume di luce stia diventando sempre più visibile e questo è merito di ciascuno di noi, della nostra tenacia, della nostra perseveranza, del nostro senso di ottimismo. Grazie.